Ehi, adesso puoi evocare il primordiale. Porco di distanza minima, madonna, mi ha aperto il giro. Mi ha aperto il giro. Apparazzita, quei guardiani. Uno a te, e due, tre abbattuti. Tutti abbattuti! Il portale è aperto. Vai a guardarli negli occhi. E l'invasore scatena il caos. General, la sua avversaria ha affascato. La figlia.